Io sono una liberale convinta, penso che anche nei servizi la liberalizzazione sia necessaria. Non è in contraddizione con il fatto di tutelare gli investimenti che i taxisti hanno fatto nelle licenze, perché le licenze per i taxisti sono il loro TFR, quindi sono esigenze che non sono in contrasto, vanno tenute. Quindi troverete un punto di incontro? Allora, io il punto di incontro con le categorie professionali e con i sindacati le ho sempre trovate. Ho sempre chiuso tutti i contratti sindacali, in qualsiasi posto sono stata. Per me i sindacati o le rappresentanze dei lavoratori hanno avuto sempre un ruolo importantissimo. L'ho fatto quando ero in RAI, l'ho fatto quando sono stata ministro, quando sono stata sindaco. Escludo di non riuscire a farlo anche in regione. Ma riuscirà a vincere Calenda da questo punto di vista? Non c'è contraddizione.